Secondo voi io non so da che parte devo guardare, questo è il secondo liceo che si fida dell'insegnante a occhio di informatica. Questo è il consigliere, catechista del bienio, questo è sempre il consigliere e questo è sempre il catechista del bienio, perché noi abbiamo della costanza dentro di noi. E c'è anche un po' di certezze. E delle certezze. E delle certezze. E delle certezze. E delle certezze. Grazie a tutti